In questo nuovo appuntamento currency watch dove andremo a cercare di capire che cosa sta succedendo sul cambio franco svizzero euro per capire se è il momento giusto per cambiare i nostri franchi svizzeri in euro oppure dobbiamo aspettare. Io come sempre vi ricordo che soprattutto sui mercati finanziari è impossibile prevedere il futuro ma quello che andiamo a fare è utilizzare la statistica per cercare appunto di avere un'idea sulle mosse migliori da fare. Come sempre anche qualora vedessimo che il cambio potrebbe essere più favorevole più avanti nel tempo mi raccomando non affamate le vostre famiglie e non evitate di cambiare franchi svizzeri semplicemente perché magari abbiamo fatto una previsione è sempre importante cambiare nel momento in cui avete necessità. Prima cosa che vi voglio ricordare ricordatevi che cambiavalute.ch probabilmente già lo conoscete ma è un cambio online che vi permette di cambiare i vostri franchi svizzeri e viceversa. Vi ricordo che una volta che vi collegate all'interno della dashboard dove potete effettivamente poi effettuare il vostro cambio oltre alla possibilità di richiedere un cambio c'è anche il tasto invita i tuoi amici e guadagna. Invitando attraverso il vostro codice promo piuttosto che con questo tasto molto comodo che manda direttamente il vostro codice via whatsapp a un vostro amico o un vostro conoscente potete appunto guadagnare 25 euro per ogni persona che ci presentate e che chiaramente cambia. Vi ricordo che tutto quello che vediamo oggi voi lo potete vedere sempre sul nostro sito qui nella sezione tools nella sezione stagionalità che è molto interessante appunto qui ne avete una versione diciamo ridotta al cambio euro franco svizzero. Notizia proprio di poco fa come vedete c'è stato un importante movimento al ribasso per il franco svizzero oggi come sempre in questo appuntamento noi guarderemo quello che è il cambio standard che viene utilizzato sui mercati finanziari ovvero il cambio euro franco svizzero. Vuol dire che quando questo grafico sale come proprio nelle ultime ore vedete che c'è stata un'impennata significa che è l'euro che prende valore sul franco svizzero quindi quando questo grafico sale vuol dire che il franco svizzero sta scendendo e viceversa quando invece questo grafico scende significa che è il franco svizzero che si apprezza nei confronti dell'euro. Cosa è successo perché c'è stato questo rialzo improvviso dell'euro e quindi questo ribasso improvviso del franco svizzero è colpa della banca centrale colpa non è una colpa chiaramente la banca centrale fa i suoi interessi sostanzialmente la banca centrale svizzera ha abbassato il tasso guida di interesse portandolo da 1,75 per cento a 1,5. Questo è proprio il comunicato stampa che è arrivato dalla banca nazionale svizzera vedete appunto che la banca nazionale abbassa il tasso guida di 0,25 punti percentuali portandolo all'1,5 per cento. Perché un innalzamento del tasso di interesse della banca centrale porta ad una discesa del franco svizzero? Molto semplice perché se fino a questa mattina tenere sul conto i franchi svizzeri portava ad avere un interesse proprio pagato direttamente dalla banca centrale dell'1,75 per cento oggi dopo questo comunicato stampa questo tasso di interesse è stato portato all'1,5. Quindi evidentemente ci sono state parecchie persone che hanno valutato che non fosse più così conveniente per loro tenere della liquidità in franchi svizzero e di incassare un tasso di interesse che è passato dall'1,75 all'1,5 per cento. Quindi già qui è una cosa molto importante quella che è successa oggi perché i tassi di interesse decisi dalla banca centrale non solo poi vanno ad influenzare per esempio i mutui che troviamo in banca per l'apertura di un mutuo, un'ipoteca come si chiama qua in Svizzera per l'acquisto di un immobile o per qualsiasi altra cosa. Ma va proprio ad influire anche direttamente sul cambio perché evidentemente come è successo nelle ultime ore tante persone dicono no all'1,75 per cento quando la banca centrale mi remunerava i miei franchi svizzero all'1,75 mi interessava a tenerli all'1,50 non mi interessa più perché evidentemente con questa liquidità posso fare qualcosa che mi renda di più. Quindi mossa comunque molto interessante da parte della banca centrale. Ci eravamo lasciati nell'ultimo appuntamento proprio verso la fine dell'anno scorso, era inizio dicembre scorso, ci eravamo detti appunto che con buone probabilità il franco svizzero avrebbe fatto dei nuovi massimi e che secondo la stagionalità avrebbe potuto farli diciamo nel mese di febbraio. Effettivamente i nuovi massimi e quindi sempre vi ricordo che qui guardiamo un grafico che è al contrario perché è il cambio euro franco e non franco euro, vediamo appunto che questi nuovi massimi per il franco ci sono effettivamente stati con un po' di anticipo rispetto a quello che è la statistica che storicamente vede nel mese di febbraio un franco svizzero che si apprezza nei confronti dell'euro. Quindi effettivamente è successo in maniera poi repentina i prezzi come vediamo appunto sono tornati a salire i prezzi dell'euro franco, quindi vuol dire che il franco svizzero è sceso nei confronti dell'euro proprio perché evidentemente questa decisione che è stata comunicata oggi da parte della banca centrale era già stata intuita, annusata dai mercati finanziari. Quindi andiamo però a vedere subito la nostra stagionalità per vedere appunto che cosa ci possiamo aspettare da qui ai prossimi mesi perché ve lo ricordo appunto questo è il grafico della stagionalità che possiamo mettere a 5 nella linea blu, a 10 ma anche a 20 anni. Molto semplicemente che cosa sono queste linee che vediamo sul grafico? Sono la media dell'andamento del cambio euro franco, anche qui vi ricordo sempre che stiamo vedendo l'euro franco e non il franco euro, appunto la media dell'andamento del cambio euro franco negli ultimi 5, 10, 20 anni. Qual è la teoria sottostante alla teoria della stagionalità? Che esattamente come in natura esistono dei cicli come per esempio quello della temperatura che vede appunto alternarsi di temperature basse nel periodo invernale che si alternano a temperature più alte nel periodo estivo come sta succedendo in questo momento. Stiamo andando verso l'estate, le temperature aumentano. Ecco che una sorta di pattern, una sorta di ordine esiste anche all'interno dei mercati finanziari. Tant'è che se andiamo per esempio a confrontare l'andamento medio degli ultimi 5 anni con l'andamento medio degli ultimi 20, vediamo che effettivamente c'è una grande similitudine soprattutto appunto nei momenti di svolta, soprattutto nei massimi e nei minimi di questo grafico. Quindi tenere d'occhio la stagionalità, sapere dove siamo in questo momento a livello stagionale è molto interessante. Anche perché che cosa vediamo? Beh, vediamo che come avevamo visto nel precedente appuntamento, avevamo di fronte a noi un periodo che tendenzialmente poteva essere abbastanza positivo per l'euro, quindi negativo per il franco svizzero. Avevamo visto e nello specifico ci aspettavamo un nuovo minimo per l'euro franco, quindi un nuovo massimo per il franco svizzero nel mese di febbraio. Abbiamo visto che questo nuovo massimo per il franco svizzero è arrivato con di fatto 15-20 giorni d'anticipo. Che cosa possiamo aspettarci adesso? In questo momento rispetto alle medie storiche appunto, mettiamo anche la 10 anni, guardate la 10 anni e la 20 anni come sono molto molto simili. Davvero è incredibile vedere come mediamente anno dopo anno più o meno succedono le stesse cose sui mercati. Beh, adesso siamo qua, quindi vediamo sostanzialmente che da qui in avanti, quindi da qui diciamo fino alla fine di agosto, siamo in un periodo che statisticamente è propizio per un rialzo del franco svizzero. Siamo in un momento dove il franco svizzero storicamente è salito. Infatti se andiamo a vedere proprio le statistiche, vediamo che storicamente il franco svizzero da oggi fino appunto alla metà di agosto, tendenzialmente è salito con percentuali comprese tra il 4,7 e il 3,5%. Quindi possiamo dire che da qui ad agosto potrebbe esserci un apprezzamento del franco svizzero intorno diciamo al 4%, che è chiaramente una media di quello che è successo in passato. E' molto interessante questo perché se andiamo appunto a vedere un grafico, che cosa riusciamo a vedere? Beh, questo qui ve lo ricordo ancora, scusate se insisto ma magari per tanti di voi abituati a vedere il cambio scritto fuori dai negozi vedendo il franco euro, è importante che io ve lo ricordi che qua stiamo vedendo un cambio al contrario. Beh, vediamo una cosa interessante prima di tutto, che per esempio nell'ultimo periodo in cui c'è stato un rialzo dell'euro nei confronti del franco svizzero, stiamo parlando del settembre del 2022, l'euro si è apprezzato nei confronti del franco svizzero del 6%. Ecco che se facciamo lo stesso calcolo a partire da questi minimi vediamo che un 6% vorrebbe dire che c'è ancora un pochettino di spazio per salire per l'euro, quindi vuol dire che c'è un po' di spazio ancora di discesa per il franco svizzero. Quindi diciamo che siamo abbastanza vicini però potrebbe esserci ancora più o meno un 1% diciamo di spazio di discesa del franco svizzero. Dopodiché da questi livelli è abbastanza secondo noi, secondo me, probabile che il franco svizzero torni a crescere per fare appunto che cosa? Per avere poi fino, come vi dicevo, alla metà di agosto un rialzo diciamo del 4% circa. Quindi che cosa capiamo da questa analisi stagionale e di prezzi messa assieme? Vediamo che con buone probabilità, chiaramente lo ripeto, impossibile prevedere il futuro perché dipende da che cosa succede nel mondo, dipende da anche come vanno gli altri mercati finanziari e quanto detenere franchi svizzeri convenga o meno in base ai tassi di interesse che la banca centrale appunto propone, che lo ricordo stamattina sono stati abbassati, però diciamo che con buone probabilità da qui ad agosto potrebbe esserci un ritorno di questo grafico su questi minimi. Vuol dire appunto che se andiamo a prendere un grafico invece che dell'euro franco, un grafico del CHF euro, potrebbe nei prossimi mesi fino ad agosto esserci un ritorno del franco svizzero, in questo caso abbiamo CHF euro, quindi vuol dire che quando scende è il franco che scende, quando sale è il franco che sale, quindi in questo caso possiamo aspettarci un ritorno per agosto ai livelli che tanto piacevano ai frontalieri, dove avevamo un cambio in area addirittura superiore a 1,07. Quindi questo diciamo è quello che possiamo aspettarci statisticamente parlando. Una cosa interessante che possiamo vedere, devo vedere EURCHF, è il COT report. È una cosa un po' tecnica ragazzi, quindi magari qualcuno di voi farà un pochettino fatica a capirla, ma il COT report è semplicemente un report che viene pubblicato da un'agenzia americana governativa che si chiama CFTC, Commodity Future and Trading Commission, che ci dice come sono posizionati su un determinato strumento finanziario i big della finanza. E nello specifico, se andiamo a vedere il cambio euro CHF, quindi anche qui vi ricordo, non è il franco svizzero questo, ma è l'euro franco svizzero, quindi quando i prezzi salgono vuol dire che sta salendo l'euro, e sta scendendo il franco svizzero e viceversa, vediamo una cosa molto molto interessante. Vediamo che per esempio ad inizio 2023 gli investitori istituzionali pensavano che l'euro sarebbe salito, quindi il franco svizzero sceso, e si sono posizionati molto rialzisti, perché vedete queste sono le posizioni dei fondi di investimento, diciamo, per semplificarlo, e vediamo che quando sono nella parte superiore sono positive, vuol dire che sono rialzisti che stanno comprando euro contro il franco svizzero. Poi guardate cos'è successo, nonostante i grandi big della finanza, i grandi fondi, continuassero a comprare euro, l'euro è sceso parecchio, il franco svizzero è salito tantissimo, addirittura tornando sui minimi del 2022. Qui, cos'è successo? I big della finanza hanno perso soldi, perché? Perché hanno comprato euro, sperando e pensando che questo grafico salisse, il franco svizzero li ha fregati tutti quanti, perché è tornato ad apprezzarsi. Addirittura, guardate cos'è successo, i big della finanza ci hanno riprovato a comprare euro proprio qui praticamente sui massimi del franco svizzero, e guardate cos'è successo, c'è stato il massimo del franco svizzero che appunto avevamo previsto nel precedente webinar. Ora cos'è successo ragazzi? Beh che piano piano negli ultimi praticamente sei mesi appunto questi grossi investitori si sono un po' scottati, e sostanzialmente in questo momento stanno tornando, lo vediamo qui, ad essere abbastanza rialzisti sul franco svizzero. Quando gli investitori istituzionali sono rialzisti sul franco svizzero? Beh sono rialzisti per esempio quando le posizioni nette sono appunto ribassiste su questo cambio. Ve l'ho detto che era una cosa un po' tecnica, quindi se non mi capite non vi preoccupate, tenete buona l'analisi fatta fino a poco fa, perché questa analisi conferma quanto abbiamo detto, ovvero dopo un periodo in cui i big della finanza hanno provato a comprare euro, quindi a mettersi contro il franco svizzero e di fatto l'hanno preso in sacoccia, in questo momento, negli ultimi sei mesi, sembra che gli investitori istituzionali siano tornati a puntare sul franco svizzero. Quindi questo ribasso del franco svizzero è secondo me una bella opportunità per gli investitori istituzionali di continuare ad acquistare franchi svizzeri e questo molto probabilmente secondo me farà sì che entro agosto rivedremo il franco svizzero sui massimi storici. Vi ricordo appunto sempre di collegarvi a cambiavalute, se non ci conoscete, se non avete ancora mai cambiato con noi, il tuo primo cambio ti può portare a guadagnare 25 euro, se invece siete già nostri clienti, dalla vostra dashboard, come vedete anch'io sono cliente di cambiavalute chiaramente, da qui c'è il tasto invita i tuoi amici e guadagna, potete inondare la vostra rubrica tramite whatsapp a tutti i vostri colleghi e amici frontalieri e qualora appunto poi cambiassero con noi è tutto tracciato da un codice sconto vostro personale univoco che vi fa guadagnare. Comunque trovate tutte le istruzioni e tutte anche le promozioni qui sul nostro sito promo vedete che trovate appunto tutte le promozioni attive, tra l'altro se siete vicini alla persona che nella vostra ditta si occupa dei cambi per la ditta tenete presente che se ci presentate una ditta potete beccarvi 500 franchi e non 25, quindi insomma andate a dargli un occhio.